Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento dove trattiamo i dati. Speriamo che non sono neanche riuscito a vederlo, ma vi pare che siano calati i positivi, così guardando. A te Marco, la linea, vediamo di riuscire a fare questo collegamento che oggi è stato un po' sofferto. No comment, la tecnologia oggi non mi è venuta incontro, vediamo di riuscire comunque a illustrarvi questi dati. Questi dati riguardano dati nazionali, poi guarderemo anche i dati di Regione Liguria. Iniziamo come sempre Marco a parlare di dati nazionali con 85.231 dati di persone guarite, quindi 2.352 in più di ieri. Abbiamo quindi un andamento sempre importante di guariti, ricordiamoci però su un totale di 98.467 attualmente positivi. Quindi un valore che, guardando anche il grafico, ci fa vedere nuovamente un andamento leggermente in discesa dell'andamento nazionale, che ogni giorno noi vi facciamo vedere confrontandolo con il valore e l'andamento dei dati dei guariti. Questi guariti che oggi hanno risuperato le 2.000 persone in totale. Per quanto riguarda gli eccessi, ne parleremo dopo, ma comunque abbiamo un rallentamento di questa fuga di numeri pietosi che non vorremmo mai vedere. A riguardo guardiamo proprio il numero dei nuovi tamponi positivi, quelli tutti rossi, nuovi tamponi giornalieri. Oggi abbiamo raggiunto il totale di 213.013 tamponi, attenzione, non persone, di cui 1.075 solo nella giornata di oggi, però è, come vedete nel grafico, il valore più basso ormai da un mese e mezzo a questa parte. Quindi, anzi, forse anche così due mesi, dagli primi di marzo che non si leggeva un valore di questo tipo, quindi va bene così. Andiamo a vedere quanti tamponi sono stati fatti in tutta Italia, sono stati fatti 55.263 tamponi, nuova accelerazione a livello numerico rispetto a ieri, quindi va bene così, anche perché questo dà ancora più forza a quel valore che abbiamo detto prima, cioè i pochi tamponi che sono stati riscontrati nella giornata di oggi. E quindi abbiamo da riscontrare che cosa? Abbiamo da vedere come è andata a livello di andamento dei attuali positivi, ne abbiamo parlato prima, è un dato interessante, lo vediamo insieme. Le attuali positivi, il dato di oggi, sono meno 1.513, quindi una nuova discesa importante di questo montante totale che speriamo continui a scendere allo stesso modo, con la stessa velocità. Per quanto riguarda i guariti, che sono il numero che poi ci interessa anche di più, siamo di nuovo in salita rispetto agli ultimi giorni, 2.352 persone non più positive al coronavirus. Per quanto riguarda i decessi, abbiamo parlato di numeri bassi, ed eccolo lì, numero anche se leggermente superiore a ieri, però 236 deceduti per il coronavirus. Se poi andiamo a vedere anche i dati Istat, non possiamo, naturalmente dati Istat riferiti al mese di marzo, febbraio-marzo, non possiamo, speriamo che il peggio sia passato, perché ricordiamoci i dati Istat che sono usciti ieri, che sono stati l'altro ieri, che sono stati largamente commentati, analizzati, eccetera, eccetera, vedevano un andamento nazionale sul 49% in più di decessi rispetto all'ustro precedente, cioè al quinquennio precedente, e non tengono conto, però attenzione, dei dati che sono purtroppo ancora peggiori, lo anticipiamo, ma non ci vuole molto a capirlo, del mese di aprile. Il mese di aprile, soprattutto nella prima parte, purtroppo ha segnato numeri forti e in quest'ultimo periodo solo in leggera discesa. Soprattutto poi i dati Liguri, staremo a vedere come verranno fuori, però ricordiamoci che in Liguria abbiamo registrato, come in altre regioni, soprattutto del nord Italia, molti decessi e positivi nuovi accumulatisi nelle RSA, appunto nelle residenze per anziani. Questo per quanto riguarda i decessi. Se noi andiamo a vedere, Marco, l'andamento dei ricoverati in terapia intensiva, vediamo che oggi abbiamo registrato 52 letti liberati rispetto a ieri, quindi 52 persone in meno si trovano in terapia intensiva. Sempre valori importanti, ricordiamo a livello di terapia intensiva, ma poi ne parleremo anche dopo, che c'è un valore proprio numerico importante, anzi lo possiamo vedere subito, Marco, che riguarda le terapie intensive, il cartello che fa vedere la nostra nazione, l'Italia, regione per regione, che fa vedere le percentuali di posti letto occupati dai malati Covid. prende in riferimento le prime tre regioni italiane con le percentuali più in alto. Fortunatamente la Liguria è sotto questa percentuale. E riguarda appunto i quanti posti letto rispetto al totale disponibile regione per regione sono occupati oggi. Siamo intorno al 30% e ricordiamo che il 30% è la soglia critica indicata dal governo, da Roma, per far ripiombare, ora bisogna vedere se a livello regionale o a livello nazionale, ma penso che sia a livello regionale, il lockdown, cioè le chiusure in zona rossa, come era successo purtroppo quasi due mesi fa. Questo è per un dato importante da parlare. E parliamo anche di ricoverati con sintomi, la cura, quella tutta rossa, che continua a far vedere numeri in decrescita. Oggi siamo arrivati a 16.270 persone ricoverate con sintomi in tutta Italia, negli ospedali italiani. E ricordiamolo, un mese fa esatto, anzi, ieri era un mese fa, 29.000 era il numero di picco, il 4 di aprile, per quanto riguarda i nostri nosocomi italiani. Per continuare a vedere adesso, Marco, la percentuale dei positivi sui tamponi fatti, in altro listelli tutti rossi, che ci indicano che cosa? Il famoso valore che dobbiamo tenere presente per poi pesare, dico poi perché anche se è iniziata la fase 2, i dati naturalmente si riferiscono ancora tutti alla fase 1, è giusto, è ovvio, questo comunque ribadirlo, e siamo all'1,9%, vuol dire che meno di due tamponi sono stati rilevati positivi oggi rispetto ai 100, su un montante di 100, il 2% neanche, il 1,9%. Questo è un valore molto interessante, naturalmente su media nazionale. E guarda caso oggi, tra le altre cose, la Lombardia, che è la regione che sappiamo più stressata, più interessata ai contagi, ha segnato una media migliore rispetto alla media nazionale, a livello di contagi, di nuovi positivi, quindi è giusto menzionarla. Parliamo sempre di positivi, però su nuovi casi testati, quelli con i listelli sempre rossi, escludendo il tampone di controllo, cioè quindi prendendo proprio le singole persone per la prima volta, oggi abbiamo avuto il record dello scorso 25 aprile, che cosa vuol dire? Il 3,3% oggi, ovvero sia sulle persone testate la prima volta, solo il 3,3% sono risultate positive al tampone. Questo è un altro indice molto molto importante, che noi dobbiamo mantenere, speriamo di tenere e mantenere su questi numeri, su questi valori, perché vuol dire che la pandemia è sotto controllo, anche nella famosa e famigerata fase 2. Ora parliamo di che cosa? Parliamo di dati regionali, giustamente Marco. Oggi abbiamo valori interessanti, diciamo così, anche dalla nostra regione, perché abbiamo ben 43 persone in meno su montante positivi, quindi abbiamo 5.175 totali positivi in tutta la Liguria, ma 43 persone in meno rispetto a ieri. 38 persone clinicamente guarite a casa in più rispetto a ieri, abbiamo addirittura 95 guariti, quindi non più positivi, quindi tamponi negativi 2 consecutivi, e abbiamo superato le 2.000 persone. 2.068 persone non più positive al coronavirus in Liguria. Oggi sono stati fatti 1.530 tamponi, un numero importante, un numero che ci permette di superare le 57.000 unità di tamponi fatti, e 57.622 per essere corretti. Per quanto riguarda poi i pazienti a domicilio, 54 persone in meno, ottima notizia anche questo, e i deceduti sono saliti di 11 persone. Abbiamo 27 persone in meno negli ospedali e 4 persone in meno anche in terapia intensiva, quindi tutti i valori che ci sorridono, diciamo così, in maniera cinica lo possiamo definire così. Tra le altre cose, aggiungo io, che a livello di dati e di conferenza stampa regionale, sono stati confermati i test molecolari standard, non quelli sierologici, ma quelli standard, per un inizio di 3.000 tamponi al giorno, partire dalla prossima settimana, dai prossimi giorni. Stanno arrivando a breve in Italia, sono stati acquistati da Regione Liguria in America, e faranno sì che si aggiungeranno ai test classici, quelli i tamponi, per testare la diffusione del virus e anche comunque la situazione degli anticorpi presenti. Per quanto riguarda sempre i dati di Regione Liguria, è giusto ricordarvi che abbiamo da parlarvi di mascherine. Le mascherine sono ormai state consegnate a tutti, nel senso che ci sono ancora 100.000 mascherine che si aggiungono al milione di mascherine consegnate a poste italiane, e poste italiane consegnerà anche queste 100.000 entro venerdì. E poi ricordiamoci che da domani inizierà la consegna e distribuzione presso le nostre farmacie in tutta la Liguria di ben 500.000 mascherine, suddivise in coppia per ogni busta, quindi per 250.000 persone che si recheranno col proprio tesserino sanitario nella farmacia. E ricordiamoci però una cosa, che non saranno tutte disponibili domani, questo è anche per evitare l'assembramento magari di le code, le file fuori dalle farmacie, ma inizieranno domani, poi man mano nei prossimi giorni saranno ancora disponibili, ripeto, nelle farmacie Liguri. Questo è un dato a cui tenevo di molto importante, perché vanno anche a ovviare alcune lacune di consegna a livello puntuale magari in alcuni paesi, in alcune frazioni, in alcune situazioni che magari il postino non è riuscito a servire al meglio. Hai domande Marco? No, no, vai, vai. Perfetto. Abbiamo ancora da segnalarvi come dati i dati di Chiavari, il dato di Chiavari porta a 4 persone in meno rispetto a ieri, quelle che sono in isolamento fiduciario, 59 in totale. Abbiamo 89 chiavaresi positivi al coronavirus, stesso numero di ieri, e di queste 89 abbiamo 84 persone in quarantena a casa e 5 persone sono ricoverate invece nell'ospedale al nosocomio di Sesti Levante. Quindi questo per correttezza anche dal punto di vista del dettaglio puntuale del nostro territorio. Per quanto riguarda ancora dei dati, andiamo a parlare di R con 0. R con 0 lo vediamo sia con l'Italia, quella tutta colorata, verde e nocciola, è quel famoso valore, lo ripetiamo ogni volta, che misura la capacità di una singola persona di contagiare X persone. Ovvero sia quanto è ancora virulento il virus e quante persone possono ancora essere contagiate. Se siamo a R con 0 uguale a 1, vuol dire che una persona può infettare al massimo un'altra persona. Sotto l'1, come ci troviamo in questo momento in Italia, la situazione vuol dire che la pandemia è sotto controllo, cioè non c'è una diffusione del virus, ma il virus sta lentamente calando, come dimostrano anche i numeri. Naturalmente questo R con 0, che adesso vi vado a spiegare cosa vuol dire il colore, regione per regione, è riferito sempre ai dati ancora della fase 1, non pesano ancora assolutamente il giorno di oggi e quello di ieri, anzi, i primi sintomi positivi o negativi che saranno, li potremo vedere non prima di sabato o domenica, perché i tempi di incubazione sono quelli, se non di più. Allora, vediamo un po', come si legge la sua in cima con la leggenda, più è verde, verde e scuro, più l'R con 0 tende allo 0, cioè 0,1, 0,3, 0,4, più siamo sul giallo e marroncino, diciamo arancione, nocciola, più il valore sull'1, addirittura supera l'1. Ci sono alcune regioni che superano l'1, secondo questo dato, naturalmente di Covstat, sono la Sicilia, la Puglia e la Lombardia. Poi ci sono altri dati che invece vedono la Lombardia molto bassa, questo bisogna vedere un po' come viene calcolato, però secondo questa analisi, a parte queste tre regioni, tutte le altre regioni sono sotto il valore di 1. La Liguria è sullo 0,8, 0,9, infatti lo vedete che è sul giallino, poi ci sono le regioni in verde, come lo 0,7 del Molise, dell'Abruzzo e della Toscana, e anche della Basilicata, e poi abbiamo più verdi intensi, vuol dire 0,3, 0,4, di Valle d'Aosta, di Umbria, Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia e Emilia Romagna. Quindi, come vedete, la nostra nazione è divisa molto, anche sotto questo punto di vista, e quindi avrebbe anche un senso, e lo vediamo anche con quel grafico listelli, Marco, se riesci a farlo vedere, anche lì, che rappresenta, con vari colori, le regioni italiane, fa vedere, appunto, che siamo un po' spezzettati, regioni che sono, ormai, diciamo, ormai nel senso, ad oggi, a ieri, anzi, abbastanza tranquille, come l'Umbria, e l'Emilia Romagna, che pensate, però, l'Emilia Romagna, come era messa, tra virgolette, male, fino a due o tre settimane fa, e ci sono regioni, invece, ancora un po' stressate, perché sono vicinissime al valore di uno, alcune le superano anche, come la Lombardia, nota dolente, la Sicilia, nel senso che è una novità, la Sicilia, fino a pochi giorni fa, era ben sotto il valore di uno, e oggi, invece, lo supera, la Puglia uguale, il Piemonte lo sfiora, così come, poco sotto, anche la Liguria, la Campania, il Lazio, eccetera, eccetera, quindi, questo Recon Zero ci permette di misurare, appunto, la virulenza e la contagiosità del virus, giorno per giorno. Prima di concludere, un paio di aspetti, li ricordiamo, il primo è che, con la grafica di Regione Liguria, abbiamo da segnalarvi aiuti al turismo, la Regione Liguria, tramite fondi europei, mette a disposizione dei bandi, per assunzioni dedicate alle imprese, il totale del plafond sarà di 6 milioni di Euro, quindi assunzioni per le imprese legate al turismo, naturalmente, e poi c'è un percorso formativo che si chiama Smart Attivo, dedicato invece ai lavoratori, ci sarà un percorso formativo remunerato. Un altro aspetto importante è per formarsi, per imparare un mestiere o migliorare il proprio mestiere, il tutto con un aiuto anche economico che non fa affatto male. Il plafond totale è di 6 milioni di Euro, per avere maggiori informazioni, fate visita al sito della Regione o anche al sito di Filse, dove potete vedere il dettaglio, le caratteristiche dei bandi specifici. L'ultima cosa, guardiamo invece quell'illustrazione del Ministero della Salute che parla di come andare a fare la spesa, acquisti in sicurezza. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, ricordiamoci sempre di avere con noi e dotarsi di mascherine e di guanti, mantenere alla distanza di un metro fra noi e l'altra persona che sta facendo la spesa insieme a noi, la pulizia è importante, questo è rivolto naturalmente agli esercenti, ai proprietari o ai gestori dei negozi, quindi mantenere pulito e igienizzato il proprio ambiente di lavoro almeno due volte al giorno, far sì che ci sia la possibilità di lavarsi le mani da parte degli operatori del negozio e anche dei clienti possibilmente, abbiamo da menzionare anche la disponibilità di mettere a disposizione se è possibile anche i guanti usegetta all'ingresso del negozio, del supermercato, diareggiare e ricambiare l'aria molto spesso all'interno del negozio stesso per far sì che non ci sia aria potenzialmente contaminata. Questi sono poi insieme ad altri che poi metteremo a disposizione anche sulla pagina di Entella TV le indicazioni sia per chi va a fare la spesa sia per chi è proprietario e gestisce l'attività commerciale, sempre per la sicurezza. Prima di salutarci parliamo anche di una cosa che mi stavo dimenticando, cioè l'ordinanza, abbiamo parlato prima di numeri di Chiavari, anche Chiavari ha fatto una sua ordinanza, anzi più che altro l'ha aggiornata, un'ordinanza legata alle misure di prevenzione della diffusione del coronavirus, che cosa ha fatto? Ha chiuso al pubblico fino al prossimo 17 maggio, che è domenica 17 maggio, tutte le spiagge, quindi non ci si può accedere, a parte naturalmente il personale degli stabilimenti balneari che devono sistemare le proprie attrezzature. Per quanto riguarda le altre novità, sono il divieto di utilizzo degli attrezzi igienici pubblici collocati in passeggiata mare, inoltre è vietato l'accesso al parco di Villa Rocca e a tutte le aree giochi attrezzate, quelle per bambini, in tutto il comune di Chiavari, poi è consentito l'utilizzo delle panchine pubbliche solo una persona alla volta, oppure a gruppi familiari e quelli conviventi, cioè il ragionamento è simile al fatto di poter andare in macchina con i conviventi o con loro con cui risiediamo. Per quanto riguarda altre cose, c'è da dirvi ad esempio che i locali aperti al pubblico oppure il mercato ortofrutticolo, quello giornaliero di Piazza Mazzini e tutto il centro storico deve essere da noi frequentato indossando obbligatoriamente le mascherine e i guanti. Quindi è importante anche questo messaggio, quindi non c'è più l'opzione ma c'è l'obbligatorietà. Quindi non solo, c'è anche l'obbligatorietà di utilizzare le mascherine in qualsiasi situazione non sia possibile mantenere una distanza di almeno due metri fra le persone. E naturalmente, ultima cosa, credo che sia ovvia ma è giusto che sia specificata, che la mascherina, il presidio, deve essere usato correttamente, cioè il naso non deve essere lasciato fuori dal resto della mascherina. E' stato specificato in modo tale che se fosse una persona diciamo colta con una mascherina montata male, indossata male, diciamo le forze dell'ordine possono intervenire e multare anche in questo caso. Io ti rilancio l'appuntamento domani Marco, sempre alle 13 qua su Entella TV. Grazie Marco.